Oggi ricorre la ventidue e tredesima giornata mondiale per l'Alzheimer, che ha per tema Ricordate di me. Invito tutti i presenti a ricordarsi, con la sollecitudine di Maria e con la tenerezza di Gesù misericordioso, di quanti sono affetti da questo morbo e dei loro familiari per far sentire la nostra vicinanza. Preghiamo anche per le persone che si trovano accanto ai malati, sapendo cogliere i loro bisogni, anche quelli più impercettibili perché visti con occhi pieni di amore.